terzo è il momento giusto è il momento giusto per fare webinar è il momento giusto per sfruttare il webinar come strumento di formazione di comunicazione e per far sì che in qualche modo il la potenza dei dei web meeting quindi delle conferenze online venga amplificata massimo ma soprattutto al momento giusto per noi allora noi abbiamo definito nelle ultime le ultime cose che abbiamo scritto quello che definiamo lo spaghetti style diciamo che fondamentalmente tutto parte dal terzo punto c'è la crisi economica quindi in italia va bene inutile star qua a menarci a tutti ci raccontano che appunto c'è la c'è la crisi la crisi economica e quindi in qualche modo ormai siamo abituati a ad affrontare questa situazione allora nella crisi economica ovviamente c'è sto banalizzando però se ci ragionate è molto semplice cioè bisogna pagliare i costi il webinar ci sta permettendo adesso di essere collegati ognuno da casa propria senza esserci scostati state facendo una sessione di formazione molto più densa da un certo punto di vista di una formazione in aula ma non entrerò nel merito di questi aspetti interattivi e quindi ora per poter sfruttare al massimo questo potenziale e soprattutto per renderlo positivo c'è questo approccio che è quello italiano se voi leggete i libri americani parlano di come migliorare e come migliorare il webinar guardate che descrivono in qualche modo il nostro stile cioè l'essere giocosi creativi il capa la capacità di improvvisare la capacità di uscire dagli schemi la capacità di gestire l'imprevisto è un un elemento culturale italiano e non è solo uno stereotipo perché tutti voi avete almeno un esempio in testa di situazioni di questo tipo allora di fronte a questo connubio tra la crisi economica che ha provocato anche un bisogno di certezze il webinar diventa lo strumento migliore perché dopo lo vediamo pochissimo per delle in brevissimo per alcune caratteristiche permette di affrontare situazioni complicate diciamo al punto di vista economico queste situazioni complicate possono essere affrontate con uno strumento che ci permette di esprimerci nel migliore dei modi possibili dal punto di vista comunicativo e allo stesso tempo da delle certezze voi in questo momento avete davanti vanin e ballor luca e fabio cioè voi avete davanti due persone noi ci stiamo mettendo la nostra faccia quindi quello che diciamo viene associato a noi se noi vi stessimo vendendo qualcosa e non sarà l'oggetto di questa serata noi saremo in prima persona di fronte a degli estranei perché voi vedete noi ma noi non vediamo voi e quindi in qualche modo questa cosa è molto molto importante quindi anche nel caso è appunto proprio della crisi il bisogno di certezze è anche legato al fatto di vedere in faccia l'altra persona e questo lo lascerei a fabio perché questo è proprio il tuo campo in realtà questo è abbastanza già il termine ci dice il webinar costa poco o nulla in realtà costa poco alla costa perché qualsiasi cosa costa in quanto ha un valore tutto quello che ha un valore ha un costo il fatto che voi adesso non paghiate per partecipare in realtà non significa che questa serata non ha un costo questa serata ha un costo se non altro al costo della piattaforma che abbiamo gestito noi e al costo della nostra presenza qua in questo momento che in qualche modo l'abbiamo ammortizzata noi quindi qualsiasi cosa un costo in realtà il costo va rapportato quindi costa rispetto a se in qualche se siamo adesso 40 47 collegati se se dovevamo metterci tutti su un aereo andare tutti in un punto chiaramente quello non costo più alto che non quello che abbiamo affrontato per organizzare questa serata quindi nessuno spostamento nessuna trasferta ci sono i due i due plus più importanti e ovviamente questo ha un forte impatto anche dal punto di vista del dell'ecologia e della era questo è il punto e della della sostenibilità allora il quinto punto è quello da cui in qualche modo eravamo partiti all'inizio no allora noi giochiamo tantissimo su questa immagine perché ora che la bicicletta pedalo e quindi la bambina che ha la sua bicicletta adesso si può lanciare serenamente giù dalle montagne russe in realtà non è assolutamente vero perché noi ci siamo accorti che ogni volta che esploriamo una nuova piattaforma e lo facciamo con una certa frequenza si ricomincia da capo in qualche modo perché ci ritrovano alcune cose ma se ne perdono delle altre e ovviamente ogni volta che c'è una nuova versione del software la piattaforma crea qualche piccolo imbarazzo per capire aspetta il pulsante è stato spostato di qui o di là ma questa cosa oltretutto per un'azienda ma soprattutto per una per un singolo o per un insegnante un docente un formatore che si deve lanciare nel mondo dei webinar chiaramente è importante cioè quanto tempo ci devi perdere per imparare la piattaforma ma soprattutto c'è un altro aspetto prima dell'altro aspetto faccio un esempio e qua in Adobe Connect c'è una funzione che abbiamo utilizzato molto fino a qualche mese fa cioè quando finiamo la riunione clicchiamo sul pulsante termine a riunione lui chiude tutti quelli che si collegano successivamente a questa chiusura trovano come deve essere evento terminato aula chiusa non si sa per quale motivo in questa ultima versione che è la 9.1 di Adobe Connect in realtà anche chiudendola poi in realtà l'aula resta aperta per tutti quelli che successivamente entreranno questo ci ha creato ci ha creato un problema molto importante perché a questo punto tutti quelli che poi nel tempo entrano non trovano l'aula chiusa e trovano la possibilità di entrare guardare la chat e c'è nient'altro abbiamo trovato abbiamo dovuto pensare ad una soluzione e l'abbiamo trovata questa soluzione non so io la dico o io la diciamo un'altra volta dai diciamo un'altra volta le soluzioni sono spesso le più banali vediamo poi chi ci arriva magari ce lo scrive via email e le indichiamo la prossima volta allora c'è l'altro aspetto che è quello più legato all'approccio didattico e all'instructional design la piattaforma rappresenta lo strumento cioè è la tecnologia che ci permette di fare qualcosa non è il fine moltissime persone partono dalla piattaforma mi prendo la piattaforma poi organizzo il webinar sbagliatissimo non tutte le piattaforme sono uguali non tutte permettono di fare le stesse cose quindi partire al contrario dalla piattaforma e tornare all'organizzazione spesso è problematico noi spesso veniamo chiamati come consulenti proprio per risolvere questo piccolo problemuccio ho la piattaforma adesso che ci faccio e quindi è una cosa che vi stiamo proprio portando sulla base della della nostra esperienza quindi al momento in cui si sceglie una piattaforma ci si deve porre moltissime moltissime domande legate appunto a quante persone saranno cosa faranno in quale periodo che cosa faremo con questa con questa piattaforma eccetera condivido pienamente quel content is the king assolutamente è d'accordo prima di tutto sono i contenuti